Tu mi stai chiedendo di dire qualcosa, di raccontare qualcosa di mio o qualcosa che mi è stato raccontato e che dovrei sapere per un terzo progetto Cato Ma Cato chi è? E dov'è? E cosa fa? E perché dovrei venire a raccontare le mie cose a questo progetto Cato? Ma vai in mona Cato e tutti quanti gli altri Cato, 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 Cato Giovanotto innamorato, vieni pronta la supporta Per la tua fidanzata, quando soffre il mal di testa Per poterla consolare, non esiste medicina Solamente la supposta, ogni male fa guarire Solamente la supposta, ogni male fa guarire Solamente la supposta, ogni male fa guarire